Sorpreso in una zona di campagna, a Codogne, a compiere l'ennesimo sopralluogo nel mirino attrezzi da cantiere o da giardinaggio da rubare e poi rivendere, un albanese di 35 anni è stato pizzicato ieri dagli investigatori della squadra mobile in Borghese. Una successiva perquisizione in casa ha permesso di rinvenire, refurtiva per 100.000 euro e altri 21.000 euro in contanti, probabile provento della ricettazione. L'uomo, senza precedenti specifici, è stato denunciato a piede libero, niente arresto, non essendo stato colto in flagranza. Il suo modo di agire è stato però da subito chiaro. Dopo essere giunto sul posto con un'autovettura a bordo di una bicicletta, compiva dei sopralluoghi e poi nel momento in cui i padroni di casa si assentavano, ritornava per sottrarre tutto quello che, secondo la sua valutazione, poteva avere un valore commerciale, quindi dagli attrezzi edili agli attrezzi di giardinaggio. Materiale sequestrato che ora la polizia invita la popolazione e le imprese edili, in particolare della zona del Coneglianese, a cercare di riconoscere e ad andare a riprendersi. Dettaglio inquietante è la presenza in casa anche di cartucce da caccia, oltre 150, più di mezzo chilo di pallini e tre etti di polvere da sparo per ricaricare i proiettili, elemento che gli ha valso una denuncia per violazione della legge in materia di armi. Verosimilmente fanno ritenere che lui avesse anche un'attività di produzione clandestina, di munizionamento da caccia e che vendesse questo tipo di materiale da lui stesso fabbricato.